Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Toscana Cine News. Il cinema internazionale della 50 giorni, dal 27 novembre al 4 dicembre, sarà quello del Festival dei Popoli, festival internazionale del film documentario. Un festival diretto da Alberto Lastrucci, nato nel 1959 ad opera di un gruppo di sociologi e antropologi che vogliono proprio creare una manifestazione volta alla documentazione e allo studio della società, dei problemi sociali. Una vocazione che il festival non ha perso, infatti, porta sempre in primo piano quelli che sono i principali problemi della società attuale. E questo lo dimostra anche con l'immagine, l'immagine del manifesto, che è quest'anno un giubbotto salvagente. Questo a simboleggiare quelli che sono i tanti viaggi dei migranti che ogni giorno vengono compiuti da parte di tante persone che dal sud del mondo vengono in Europa in cerca di una vita migliore. Sentiamo Alberto Lastrucci. Rispetto al passato, il cinema documentario adesso riflette sull'immigrazione dando la possibilità a chi ha compiuto questo famigerato viaggio di raccontare la sua esperienza. Allora, quello che diciamo noi, anche attraverso le immagini che vedete alla mia spalla, è per un momento smettiamo di parlare dei giubbotti e parliamo di chi c'è dentro. Il Festival dei Popoli porta quest'anno all'interno della 50 giorni oltre 100 film documentari che si svolgeranno, la cui proiezione si svolgerà non soltanto all'Odeon di Firenze ma in altre location cittadine. Ad esempio il Puccini, lo Stensen, le Murate, l'Istituto Francese e lo Spazio Alfieri. Quindi vedete quante realtà cittadine vengono coinvolte. Infatti la manifestazione si tiene come evento della regione toscana ma anche in partnership col Comune di Firenze. Sentiamo che cosa ha detto a questo proposito Tommaso Sacchi. Io penso che il Comune, soprattutto in questi momenti storici in cui il medium del cinema e del documentario acquistano un potere particolare, un potere mediatico, un potere di racconto e un potere di stimolo del dibattito fondamentale. Il Festival dei Popoli rappresenta la cucitura di luoghi e dei grandi protagonisti della cultura fiorentina. Pensiamo che, lo leggevamo ora nel comunicato di questa rassegna, tiene insieme il Museo del Novecento, Murate, così come questo cinema dove oggi ci troviamo, così come altri luoghi come il Caffè Letterario, sempre all'interno del complesso delle Murate. Cioè una vera e propria cucitura di luoghi, di teste che pensano la cultura contemporanea. E allo stesso tempo tiene insieme le radici del passato, quindi uno dei più grandi archivi del mondo di film documentari, uno dei più grandi festival, forse il più grande festival d'Europa del film documentario, con quello che è lo stimolo verso la contemporaneità, quello che è il dibattito dell'oggi, viene attraverso il linguaggio cinematografico portato all'interno di questo splendido cinema che ospita la 50 giorni e il Festival dei Popoli. E anche, come dire, un'apertura verso altre culture, perché sappiamo benissimo, come accennava a questi fatti di cronaca, purtroppo che è molto facile chiudersi verso tutti quelli che sono i popoli per l'appunto. Il Festival dei Popoli ha sempre avuto questa caratteristica, questa peculiarità di unire, di unire tenendo alto il dibattito critico. Io ricordo diverse proiezioni in cui poi ci si trova, ci si ferma, ci si ferma a riflettere. È un festival che fa pensare, ma sicuramente non esclude. Ma quelli che sono i punti forti del programma della 56esima edizione del Festival dei Popoli ce li ha descritti ancora una volta Alberto Lastrucci. Il film di apertura Mr. Gaga di Tomer Hyman è un film di grande livello spettacolare e abbiamo deciso di aprire con questo per aprire le porte del Festival al pubblico più vasto possibile. È un film che parla di danza contemporanea, mostrandoci sia cosa succede sul palco, sia ne dietro le quinte di una compagnia di balletto internazionale della Bathsheba Dance Company di grande livello, di grande formazione. E soprattutto il suo coreografo, Naharin, che mostrerà sia la sua passione per la danza, sia anche la sua concezione di danza contemporanea, la maniera in cui prepara i danzatori. È una cosa veramente elettrizzante. Si farà fatica a stare seduti in sala perché viene voglia di saltare sul palco. Quindi un bel documentario sulla danza, ma anche musica con James Brown e altri. Da sempre ci chiedono cosa farà quest'anno il Festival dei Popoli di film musicali. Bene, siamo molto contenti. Anche questa edizione varrà la pena di essere vista per gli appassionati della musica. Abbiamo un bellissimo documentario sul re del sol, James Brown, un uomo veramente energetico sul palco, è un eufemismo perché infatti il film si intitola Mr. Dynamite, è un film molto divertente per quanto il ritratto che ne viene fatto di James Brown ha anche dei lati oscuri, era un uomo che aveva dei problemi di violenza domestica e quindi diciamo questo grande performance visto anche poi nella sua vita privata. Abbiamo un documentario in anteprima assoluta, complimenti per la festa, film concerto dedicato a una delle rock band italiane più di prestigio, i Marlene Kunz, ospiti del Festival. Il focus sull'immigrazione attraversa tutto il programma del Festival, attraverso 19 film, è un incontro pubblico a cui parteciperanno alcuni degli esperti, alcuni esperti che ci racconteranno le storie dell'immigrazione. Questo focus intende parlare di un evento che ci ha convolto tutti in questi ultimi mesi e lo farà attraverso la potenza del cinema. Il nostro desiderio è quello di riuscire a coinvolgere sempre più collaborazioni in città per creare un tessuto culturale che già c'è ma per rafforzarlo, quindi oltre alle sale che negli ultimi edizioni hanno ospitato il nostro Festival, abbiamo anche la possibilità di vedere un film con concerto al Teatro Puccini, una proiezione all'auditorium Stenzen e oltre ai partner di cui sono molto orgogliosi il Museo del Novecento che aprirà i suoi meravigliosi spazi per una proiezione di un documentario italiano di Manfredi Lucibello, Il Paese Perduto. Con Doc at Work invece si vedranno finalmente i progetti finanziati da questo forum. La terza edizione di Doc at Work, spazio dedicato alla coproduzione internazionale di film in fase di realizzazione, oltre a 14 nuovi progetti che verranno portati a Firenze per trovare finanziamento agli esperti internazionali che hanno accettato il nostro invito, sono molto contento che quest'anno in programma si potranno vedere alcuni dei migliori documentari prodotti a Firenze nelle scorse edizioni. L'appuntamento è quindi non soltanto all'Odeon di Firenze, questa volta ma nei tanti cinema cittadini coinvolti nel Festival dei Popoli, un festival che andrà avanti fino al 4 dicembre in attesa di un altro festival importante ogni anno accolto dalla 50 giorni, vale a dire il River to River Florence Indian Film Festival che inizierà il 5 dicembre. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e arrivederci nella prossima puntata. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e i nostri telespettatori e i nostri telespettatori